ciao bellezza e bentornate tra poco ci sarà lo spacchettamento avon di campagna numero 9 e 10 insieme con le anteprime di campagna numero 12 ma tutto questo indovinate un po dopo la sigla ben rientrate ragazze su vaniglia chic oggi video spacchettamento di due campagne insieme la 9 e la 10 e naturalmente vi mostrerò alcune anteprime di campagna numero 12 a proposito della campagna numero 12 online trovate il video catalogo con tutte le anticipazioni per quanto riguarda questa campagna che va dal primo novembre al 21 novembre 2019 ovviamente ho raggruppato un solo ordine ho inviato l'ordine numero 10 ma molte cose che vedrete sono della campagna 9 perché sapete che si può ordinare dalla campagna precedente per cui vedrete un po di cosini della campagna 9 qualcosa della campagna 10 e soprattutto due anteprime molto molto interessanti della campagna numero 12 ma andiamo subito con il materiale cartaceo vi mostro quello che ho ricevuto per prima cosa ho ordinato i cataloghi mi sono arrivati tre cataloghi di campagna 11 e tre cataloghi di campagna numero 12 per distribuirli alle clienti poi mi è arrivato un avon per te per noi consulenti un avon man un supplemento di campagna per i signori maschietti poi mi sono arrivati due avon outlet campagna 11 e campagna numero 12 ma questi sono riservati a noi presentatrici iniziamo con i prodotti che mi sono stati ordinati dalla campagna numero 9 mi sono state ordinate queste pantofole molto molto carine sono nella numerazione 40 e devo dire che sono davvero molto molto carine sono fatte davvero molto molto bene ho permesso naturalmente di aprire questo questo prodotto altrimenti non mi sarei permessa queste costavano in campagna 9 18 euro e 99 mi metto gli occhiali perché senza non posso ragazzi assolutamente poi mi è stata ordinata questa borsa termica al solo costo di 7 euro e 99 fino ad esaurimento sport e questa me l'ha ordinata la mia mamma e la particolarità di questa borsa termica è che si può personalizzare con la propria iniziale la mia mamma si chiama rosa per cui gliel'ho ordinata con la lettera r 7 euro e 99 molto molto carina questa borsa termica anche perché a volte è torna davvero sempre molto utile la borsa termica poi sempre la mia mamma mi ha ordinato questi slip della cotonella me ne ha ordinati tre due neri e uno bianco il costo singolo di ogni slip di 7 euro e 99 sono davvero ottimi questi slip della cotonella poi sempre la mia mamma mi ha ordinato questo beauty porta cosmetici a 6 euro e 50 carinissimo davvero per riporre cosmetici insomma per portare qualcosa in giro molto molto bello soltanto 6 euro e 50 poi mi è stata ordinata una matita della glimmer stick questa è nella tonalità acqua shock una glimmer stick occhi il colore davvero molto molto bello al solo costo di 4 euro e 50 questo è il colore le glimmer stick occhi sono davvero molto molto buone ve le consiglio poi mi sono stati ordinati due d'euro all'on maschili c'era l'offerta 2 a 3 euro e 50 un avon mask e un full speed poi mi sono state ordinate due acque profumate di avon natural queste sono entrambi magnolia 2 a 4 euro pagna 10 mi è stata ordinata questa cipria compatta di color trend questa è la light medium a 5 euro e 50 queste ciprie sono davvero molto molto buone ve le mostro eccola qui la light medium è questa al solo costo di 5 euro e 50 completa di spugnetta questa naturalmente dalla campagna numero 10 poi veniamo a quello che ho ordinato io prima di farvi vedere le anteprime vi mostro due profumini c'era l'offerta per noi presentatrici avon per sieve da 30 ml formato viaggio 4 euro e 99 ne ho approfittato e ne ho presi due perché uno lo devo regalare alla mia amica sara a cui mando un bacio e sono davvero molto molto buoni io l'ho provato davvero l'avon per sieve davvero un profumo molto molto buono sono rimasta davvero entusiasta me ne aveva parlato la mia amica patrizia del canale mandorla e cioccolata a cui mando un bacio ma io avevo l'avevo già puntato da un po' poi anche sara mi aveva la mia amica mi aveva chiesto di questo profumo io ho trovato l'offerta dai 3 di 30 ml e l'ho preso al volo se volete una review su questo profumo fatemelo sapere poi quanto riguarda le presentatrici ho voluto prendere avon attraction perché sapete che io ho avon attraction sensation chi mi segue sa che ho preso anche recentemente l'avon attraction rush ma volevo assolutamente prendere anche avon attraction che è il capo stipite diciamo di questa linea e in campagna 12 sarà di nuovo protagonista questo profumo insieme a nuovi lanci questa volta con un 100 ml quindi l'ho voluto prendere perché c'era l'offerta per noi presentatrici in anteprima e l'ho preso questo è un 100 ml eccolo qui allora il profumo in sé per sé è davvero molto buono come tutti chiamano attraction il prezzo in campagna 12 è davvero molto interessante lo troveremo a 27 euro ma parliamo di un 100 ml quindi un ottimo prezzo vi consiglio di annusarlo io l'ho spruzzato così al volo quindi voglio un attimino provarlo poi vi farò sapere cosa ne penso e magari insomma vi faccio anche un video review se vi interessa avon attraction ma veniamo al lancio di campagna 12 ci saranno due profumi che saranno i protagonisti incontrastati di questa campagna ve ne ho parlato già nell'anteprima catalogo che c'è già online sul mio canale ma insomma io sono una curiosona per cui ho voluto prenderli in anteprima e oggi ve ne parlo c'era la possibilità di ordinare due profumi naturalmente come al solito e poi c'era un set io ho preso direttamente il set perché era davvero interessante c'erano dei prodottini in regalo allora vi mostro prima il set maschile il set maschile comprendeva Maxime maschile da 75 ml ragazzi non lo posso aprire perché è un regalo devo regalarlo a mio marito naturalmente perché tra pochi giorni sarà il nostro anniversario quindi e naturalmente una volta che lo avrà approvato vi farò sapere se vi interessa cosa ne penso magari vi faccio passare una foto in sovraimpressione del packaging interno di questo profumo e lo troveremo in campagna 12 adesso non ricordo bene il prezzo vi faccio passare il prezzo in sovraimpressione il set comprendeva questo profumo da 75 ml l'after shave sempre della stessa linea e poi hair e body wash questo da 200 ml insomma un bel set assolutamente e in più poi il set comprendeva anche questo portafoglio per cui l'ho voluto prendere e gli farò poi magari un solo pacchetto con tutto tutto all'interno questo è il portafoglio carinissimo bello bello e questo è il set maschile poi il set femminile invece comprendeva il profumo Maxima da 50 ml adesso lo apriamo insieme vi faccio vedere che bello questo profumo la bottiglia fantastica ragazze bellissima è uno spettacolo questa bottiglia che meraviglia assolutamente meravigliosa è fantastica ragazze bellissima le note non sono state ancora insomma rilasciate da Avon il profumo è ovviamente nuovo ma anche questo sarà in offerta lancio in campagna 12 al prezzo che vi faccio passare in sovraimpressione il set comprendeva il profumo da 50 ml la body lozione e la versione da borsetta che adesso io andrò a spruzzare un attimo perché lo voglio provare assolutamente sarà che io amo i floreali insomma comunque questa è la versione da borsetta in più comprendeva anche il portafoglio femminile anche questo molto bello ragazze va da un ordine vero guardate che meraviglia io amo i portafogli da donna così grandi li adoro tutto questo set l'ho pagato solo 27 euro in anteprima per cui mi è convenuto tantissimo prendere tutto il set anziché solo i profumi e poi mi sono arrivati i campioncini di questi profumi che vi ho mostrato Avon Maxim e Maxima sono profumi lui e lei molto carine queste queste mini confezioni quindi le darò alle mie clienti e farò sentire un po' questa fragranza che è davvero molto molto buona ragazzi io ho finito spero che il mio video spacchettamento di Avon campagna 9 e 10 vi sia piaciuto e soprattutto che vi siano piaciute le anteprime io vi mando un grande bacio vi aspetto la prossima volta se ne avete piacere iscrivetevi al canale e cliccate la campanella che trovate accanto al tasto iscriviti noi se vi faccio vediamo la prossima volta lasciatemi un commento fatemi sapere che cosa avete acquistato da questa campagna che cosa ne pensate dei nuovi lanci io vi mando un bacio vi ringrazio perché davvero siete tutte carinissime con me vi do un grande abbraccio vi aspetto la prossima volta ciao